Sulle terme il Movimento 5 Stelle invita l'amministrazione comunale a non pretendere di volere fare tutto da sola, chiesta l'istituzione di un tavolo di concertazione alla presenza delle forze di opposizione. Scattano i lunedì gli interrogatori nei confronti delle 12 persone destinatari di provvedimento cautelare coinvolte nell'operazione Vertigini, che ha visto finire nel mirino 10 dipendenti del comune di Villa Franca Sicula. Mafia al processo scaturito dall'operazione Icaro, che ha visto imputati i presunti componenti delle famiglie mafiose della provincia d'Egrigento, 12 persone sono state condannate, altri 10 imputati invece sono stati assolti. Al processo venuto fuori dall'inchiesta della Digos sui falsi invalidi denominata la carica delle 104, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento, Andrea Maggioni, ha chiesto la condanna nei confronti di 10 persone. Si torna a parlare di un canile municipale a Sciacca. L'Associazione Nazionale Tutela Animali invoca un cambiamento di direzione da parte del comune. Solo in questo modo, dice Anna Maria Friscia, si può risolvere il problema al randagismo. Tre ceramisti saccensi, Gaspare Cascio, Giuseppe Arena e Pippo Prestia, parteciperanno ad un evento sulla ceramica internazionale organizzato in Francia, in un villaggio della Normandia, un momento di promozione per la storia saccense. Benvenuti alla nuova edizione di RMK Notizie, le terme in apertura. La costituzione di un tavolo di lavoro politico e tecnico per un'analisi attenta sul piano marketing operativo e finanziario del progetto Terme di Sciacca e la conseguente definizione degli obiettivi da raggiungere e delle linee guida necessarie per la stesura del bando di gestione. E' quanto chiede al sindaco Francesca Valenti il Movimento 5 Stelle, che avanza il sospetto che l'amministrazione sulle terme intenda agire in modo isolato. Entro la fine del mese il comune di Sciacca dovrebbe acquisire il patrimonio termale. Lo ha annunciato il sindaco Francesca Valenti l'11 luglio scorso e sulla questione oggi intervengono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che evidenziano come a meno di 10 giorni dalla tanto attesa restituzione da parte della regione, non si parli di bandi di affidamento e peggio ancora nessuna forza politica né la città sono state interpellate dall'amministrazione per definire le modalità e i termini della loro gestione. I 5 Stelle insomma nutrono il sospetto che l'amministrazione ci stia lavorando in modo isolato, fatto molto grave se così fosse aggiungono oggi in una nota diffusa alla stampa, perché il futuro delle terme non può essere deciso da un gruppo ristretto di politici di maggioranza a porte chiuse. 5 Stelle che non condividono nemmeno la dichiarazione del sindaco Valenti di voler attendere l'aiuto della regione per la definizione dei bandi, sia perché proprio la regione siciliana nel recente passato ha dimostrato di non esserne in grado, sia perché le terme appartengono al territorio e aspetta Sciacca a decidere nel futuro. L'impressione evidenziano è che come in passato anche questa amministrazione su una vicenda così importante stia procedendo in assenza di programmazione. Sembra mancare una strategia d'azione a breve e lungo termine, sembra mancare l'idea dei passi necessari per la definizione di un bando ragionato e studiato per il bene esclusivo della città. Rassicurare la città sulla riacquisizione del complesso termale senza pianificarne la gestione per i 5 Stelle non è sufficiente e se questo è il metodo di cui parlava il centro-sinistra in campagna elettorale, è chiaro dicono che noi non lo condividiamo perché riteniamo al contrario che occorra definire e pianificare una strategia di rilancio che parta da uno studio del mercato e da un'analisi degli aspetti economico-finanziari relativi alla gestione. Da qui la proposta dei 5 Stelle che si basa su un'ampia condivisione del percorso e delle fasi che dovranno portare alla riapertura delle terme di Sciacca. Nell'immediato è stata chiesta la costituzione di un tavolo di lavoro politico e tecnico per un'analisi attenta sul piano marketing operativo e finanziario del progetto Terme di Sciacca e la conseguente definizione degli obiettivi da raggiungere e delle linee guida necessarie per la sesura del bando di gestione. 5 Stelle che dichiarano di essere ovviamente pronti a collaborare e dare il proprio contributo. Operazione Vertigini inizieranno lunedì prossimo gli interrogatori di garanzia delle 12 persone coinvolte nell'inchiesta per truffa aggravata e continuata e falsità ideologica che ha coinvolto il medico di base Gaetano Montana, la sua segretaria e 10 dipendenti del comune di Villa Franca Sicula. Si proseguirà anche nella giornata di martedì. Soltanto il medico è agli arresti domiciliari, tutti gli altri hanno l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. Gli interrogatori si svolgeranno al Palazzo di Giustizia di Sciacca. E 12 condanne e 10 assoluzione a conclusione del processo celebrato con il rito abbreviato e scaturito dall'operazione antimafia denominata Icaro. I particolari in questo servizio. Il processo alla mafia agrigentina che si è celebrato con il rito abbreviato al Tribunale di Agrigento si è concluso con 12 condanne e 10 assoluzioni. E' il processo scaturito dall'operazione denominata Icaro, messa a segno nel dicembre del 2015 nei confronti di 34 persone, 16 delle quali erano state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giudice per l'audienza preliminare ha condannato a 14 anni di reclusione Pietro Campo, 65 anni di Santa Margherita Belice, 14 anni e 8 mesi per Antonino Iacono, 61 anni di Agrigento, stessa pena per Francesco Messina, 60 anni di Porto Empedocle, zio del boss Gerlandino Messina, 10 anni per Rocco D'Aloisio, 46 anni di Sambuca di Sicilia, 8 anni e 8 mesi per Tommaso Baroncelli, 40 anni di Santa Margherita Belice, 10 anni e 8 mesi per Mauro Capizzi, 47 anni di Ribera, 10 anni per Francesco Capizzi, 50 anni di Porto Empedocle, 10 anni per Francesco Tarantino, 29 anni di Agrigento, e ancora 10 anni e 4 mesi sono stati inflitti a Giacomo Lasala, 47 anni di Santa Margherita Belice, 10 anni per Santo Interrante, 34 anni di Santa Margherita Belice, 3 anni e 4 mesi per Emanuele Riggio, 45 anni di Morreale, e 10 anni per Diego Grassadonia, 54 anni di Cianciana. Le assoluzioni riguardano invece il figlio di Pietro Campo Giovanni di 36 anni, Domenico Bavetta, 34 anni di Montevago, Giuseppe Picillo, 53 anni di Favara, Gioacchino Iacono, 36 anni di Realmonte, Giuseppe Lopilato, 44 anni di Agrigento, Piero Guzzardo, 37 anni di Santa Margherita Belice, Gioacchino Cimino, 61 anni di Agrigento, Francesco Pavia, 35 anni di Porto Empedocle, Domenico Cucina, 48 anni di Lampedusa, e Leonardo Marrella, 38 anni di Montallegro. Le altre persone coinvolte nell'operazione Icaro vengono giudicate con il rito ordinario. Il processo ha preso il via agli inizi dell'anno al Tribunale di Agrigento e dovrebbe concludersi nel prossimo mese di novembre. Inchiesta sulla legge 104. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dei dieci imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il processo è diviso in più tronconi e la maggior parte degli indagati verrà giudicata con il rito ordinario. E si attendono per il mese di settembre le decisioni del GUP sugli eventuali rinviaggiudizio. Sentiamo. Dieci condanne sono state chieste dal pubblico Ministero Andrea Maggione al processo che si celebra con il rito abbreviato scaturito dall'inchiesta denominata La Carica delle 104. Uno scandalo esploso nel settembre del 2014 anche a seguito delle denunce del Comitato Insegnanti in Movimento composto da docenti che si erano visti scavalcare da colleghi che soffrivano della legge sull'handicap personale o legata alle condizioni di salute di un familiare. Inchiesta che ha coinvolto non solo insegnanti ma medici e funzionari accusati di aver attestato false invalidità per consentire di usufruire dei benefici della legge 104. Il processo con il rito abbreviato ha registrato la requisitore del pubblico Ministero che ha chiesto pene che variano da due a quattro anni nei confronti degli imputati. Per i medici Antonino Cina 59 anni, Antonia Matina di 59 anni sono stati chiesti rispettivamente due anni e quattro anni e sei mesi. Le altre condanne riguardano i raffadalesi Giuseppe Cuffaro 35 anni per il quale sono stati chiesti tre anni Patrizia Iba di 39 anni con richiesta di pena di tre anni e quattro mesi per il fratello Roberto Iba di 42 anni la richiesta è stata di tre anni mentre per Domenico Giglione di 48 anni e la madre Eleonora Moscato di 82 anni sono stati chiesti due anni e sei mesi. Ancora due anni e sei mesi sono stati chiesti dal PM per Giuseppe Barragato 42 anni e Giuseppe Aquilino 57 anni e entrambi di Palma di Montechiaro e per Vincenzo Graziano 64 anni di egrigento. Sono accusati di avere comprato le false invalidità al fine di beneficiare degli assegni o dei permessi e trasferimenti nel mondo della scuola. Una inchiesta che destosca al porre per l'elevato numero di 104 riconosciute in provincia di egrigento a beneficiarne insegnanti ma anche bidelli. Tutto ciò secondo l'accusa grazie ad una rete di faccendieri che metteva in contatto medici disponibili a riconoscere l'invalidità e pazienti che erano disposti a pagare per ottenerla. Una decina, quelli che hanno già patteggiato la pena altri dieci hanno scelto il rito abbreviato e dopo la richiesta del pubblico ministero attendono la decisione del giudice dopo che l'udienza è stata rinviata il 20 ottobre prossimo. A settembre entreranno nel vivo gli altri tronconi del processo scaturito dall'inchiesta sulla carica delle 104 in provincia di egrigento. Lotta al randaggismo si torna a parlare di un canile municipale a Sciacca. Ieri c'è stata una riunione al comune convocata dall'assessore Mandracchia alla presenza di alcune associazioni animaliste. Una di queste, l'Associazione Nazionale Tutela Animali, è tornata a proporre la possibilità di realizzare a proprie spese ma su un terreno comunale una struttura. Sentiamo. Non è normale che un comune come Sciacca non abbia un canile municipale e sia costretto ad affidarsi ai privati. La pensa così Anna Maria Friscia, presidente dell'ANTA, Associazione Nazionale Tutela Animali, che continua a proporre la necessità di realizzare una struttura. C'è una legge regionale dove si dice che i comuni e le istituzioni di competenza devono collaborare con le associazioni animaliste iscritte all'albo per la costruzione di rifugi o per la ristrutturazione di quelli già esistenti. Io non ero rattristata del fatto che ci fosse un canile privato che tenesse cani, per carità. Il problema serio è che malgrado avessimo e spendessimo comunque avessimo dei cani dentro dei canili privati, c'era un problema fuori evidente a tutti. Da quattro anni, non da quest'anno, dove finalmente qualcuno dà visibilità a un problema così grave. Spendiamo una cifra enorme però i cani sono tutti lì, i cani sono liberi di profiferare, i cani vanno incontro a essere ammazzati, avvelenati, perché il cittadino effettivamente ha un disagio nei confronti di questo problema. Ma non è il problema, non è il cane. Perché il cane è un cane, è un animale. È l'essere umano che deve imparare a confrontarsi con l'animale e saperlo gestire. Quindi è necessaria informazione. La soluzione definitiva è, benché il servizio veterinario abbia fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per risolvere il problema con le sterilizzazioni, manca di strutture, manca di risorse. Perché sono strutture precarie, perché le risorse umane non ci sono, perché giustamente i soldi non ci sono. Perché per quanto il servizio di sterilizzazione venga effettuato dal servizio veterinario, non è sufficiente. Quindi dobbiamo avere a disposizione una struttura propria. Il comune, se vuole azzerare, ridurre i costi e vuole risolvere il problema, deve pensare a un canele comunale, se no non ce ne usceremo più. La gente deve sapere che se è continuo in questa maniera, noi ci ritroveremo con sempre più cani e sempre più soldi da spendere. Sono soldi nostri, sono soldi di tutti i cittadini, me compresa. Voi cosa avete chiesto? Soltanto un terreno del comune? Chiesto. Intanto precisiamo una cosa. La struttura che deve essere costruita non è dell'associazione. sarà del comune, questo va chiarito, è importantissimo. L'ANTA si impegna. Con le dovute, regolare bando, se ci sono altre associazioni che vogliono proporre qualche altra cosa. Le modalità già le abbiamo affrontate, abbiamo affrontato anche, risolta anche diverse difficoltà. L'associazione si fa carico di costruire il rifugio sul terreno comunale e fa una convenzione con il comune dove a termine della convenzione tra 8-10 anni il canile diventa comunale. Noi costruiremo un rifugio a norma, a regola d'arte, con depuratore, con box a norma e tutto quanto. E nel momento in cui il rifugio è pronto, all'ingresso del cane dentro il rifugio, il comune poi, come fa con le strutture private, giusto? Dà un tot di somma a cane, come fa tutt'oggi, come fa tutt'oggi, e solo con la differenza quale. Non è che io mi propongo come associazione per sostituire un canile privato, no. Il problema, il fatto positivo, è che il comune avrà il suo canile. L'associazione invoca una superiore collaborazione con gli addetti del servizio veterinario. Se questo rifugio si fa o con l'ANTA o con un'altra associazione in grado di poter fare questo, perché tutto passa attraverso un mando pubblico, il servizio veterinario, noi dobbiamo lavorare col servizio veterinario, perché dobbiamo... Voi non siete avversari del servizio veterinario? Assolutamente. Io ho parlato, ho avuto un confronto... Avete avuto la sensazione di essere considerati così? Sì, sì, assolutamente. Continuano i guasti alle condotte idriche in questa lunga estate di emergenze per il gestore e per i cittadini. Da ieri è iniziato un intervento di manutenzione ai pozzi grattavoli. Intervento che sta a gioco forza impedendo la fornitura idrica in alcune zone della città. Vediamo di capirne di più in questo servizio. Non si riesce in quest'estate l'ennesima di emergenze idriche a garantire la normalità dell'erogazione. Un nuovo guasto di una pompa dei pozzi grattavoli ha dapprima rallentato e da ieri sospeso la fornitura d'acqua in alcune zone di Sciacca. È in corso infatti da ieri a comunicarlo ai girgenti acque un improcrastinabile intervento di manutenzione ai pozzi grattavoli e oggi si è avuta una riduzione della fornitura ai serbatoi comunali. Fatto questo, che sta a limitare hanno l'erogazione idrica in diverse zone di periferia. Si tratta di Contrada Montagna, Via Cava dei Tirreni, Contrada San Calogero, Contrada Cutrone, Contrada Portolana, Via Siracusa e Contrada Isabella. Il problema, fanno sapere dal gestore, è ad una pompa di sollevamento a 160 metri di profondità, pompa che nelle scorse ore continuano, è stata recuperata e che adesso va sostituita. Al lavoro gli operai dunque per cercare di sistemare il guasto auspicano entro domani. L'erogazione potrà riprendere solo ad intervento ultimato e non si esclude quindi che per il ripristino della regolare turnazione bisognerà attendere fino a lunedì o al massimo martedì. Se da Contrada Montagna e Isabella l'acqua converrà a badare a risparmiarla in questo fine settimana, dal gestore idrico affermano che l'erogazione nel centro storico di Sciacca e in tutta la zona di San Marco sarebbe rientrata nella normalità attesa dai cittadini anche per due settimane consecutive. Non possono affermare lo stesso i residenti di Tre Billette in Biaghezzi di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi e che al nostro Tg tornano a far sapere di essere ancora a secco. Una situazione difficile da tempo per loro dovuta affermano alla vetustà della condotta idrica. Problema di risoluzione complessa hanno affermato anche la nostra redazione dal gestore idrico ma da qualche parte per risolverlo prima o poi bisognerà pure cominciare. C'è chi l'acqua la paga due volte così un saccenze titolare di un'attività commerciale allo stazione parla la nostra redazione a cui ha girato questo video. Video che documenta il motorino dell'acqua che gira seppur in quel momento in realtà la fornitura idrica all'attività commerciale arriva ma ad un'autobotte privata pagata anch'essa come l'acqua segnata dal contatore dal cittadino. Un fatto singolare che l'utente ha voluto documentare con le immagini che vedete. Modifiche agli orari di apertura al pubblico per lo sportello di Girgentiacque a Sambuca di Sicilia a partire dal lunedì prossimo lo sportello resterà aperto nella giornata di ricevimento vale a dire il mercoledì solo la mattina dalle 8.45 alle 13.30 Ed è così che si presenta con Trada Bordea alle 11 a scriverlo la nostra redazione è una cittadina che ha anche allegato le immagini che tra poco andranno in onda cassonetti non ancora svuotati materassi divani e residui di pesce che impuzzano incredibilmente tutta la zona una situazione di degrado assoluto che va avanti ormai da mesi con qualche incivile che va a scaricare le decine di cassette di pesce degrado a cui si è anche aggiunta una perdita copiosa di acqua tutte le ore del giorno da un mese l'asfalto è diventato viscido e melmoso con il rischio concreto che prima o poi qualcuno scivoli rovinosamente con le gomme dello scooter o dell'auto continua nonostante le gravi difficoltà finanziarie l'impegno del libero consorzio comunale di agrigento nella tutela dell'ambiente sul richiesto del WWF ente gestore della riserva naturale di torre salsa assiculiana il gruppo di protezione civile avvierà a partire da lunedì 24 un servizio di controlli periodici e di monitoraggio della riserva il servizio sarà svolto dal personale dell'ufficio abitato nelle attività di protezione civile per la prevenzione di eventuali focolai di incendio che saranno comunicati tempestivamente all'autorità di pubblica sicurezza ai vigili del fuoco e alla forestale oltre alla prevenzione degli incendi il personale del libero consorzio provvederà a segnalare auto o persone sospette all'interno della riserva in modo da identificare eventuali responsabili di danneggiamenti o di abbandono di rifiuti Google Camp secondo indiscrezioni il meeting annuale di Google quest'anno dovrebbe svolgersi a Menfi al Baio San Vincenzo il primo di agosto una notizia non confermata ma nemmeno smentita pochi dubbi sull'eventuale dimora dei VIP che parteciperanno al congresso internazionale il Veldura Golf Resort di Sciacca sentiamo non è una notizia confermata ma pare che il meeting internazionale annuale di Google quest'anno si svolgerà a Menfi al Baio San Vincenzo secondo indiscrezioni i magnati di Google avrebbero quindi deciso di tornare per il terzo anno consecutivo in Sicilia dopo il parco archeologico di Selinunte Borgo Bonsignore a Ribera le cene di Gale in Piazza Angelo Scandaliato a Sciacca e a piedi del Tempio di Giunone di Agrigento adesso dovrebbe essere la volta del Baio San Vincenzo di Menfi una struttura intrisa di storia situata nelle campagne a nord-est della città del sole dove scorre il fiume San Vincenzo il Baio è immerso tra le colline tipico scenario siciliano dove il verde di olivi e della vegetazione e il giallo del grano si allungano fino all'azzurro del cielo e del mare Menfi bandiera blu da oltre 20 anni padre del buon vino e città natale dell'ex Miss Italia Giussi Buscemi adesso potrebbe vantare anche quest'altro evento prestigioso pare sia nota anche la data del Google Camp il primo di agosto il 31 luglio invece come l'anno scorso la società di Mountain View pare che organizzerà nuovamente una cena all'ombra della valle dei templi di agrigento pochi dubbi sulla struttura in cui dormiranno i giganti di Google il verdura resort di Sciacca circondato da 230 ettari di uliveti e delimitato da 2 chilometri di costa che offre spiaggia privata 3 campi da golf e 6 da tennis 4 ristoranti una piscina infinity ed una spa difficile trovare di meglio in zona l'organizzazione è comunque come sempre accade per questa kermesse chiuse nel massimo riservo ma saranno comunque tanti i VIP che dovrebbero essere ospitati al Baio di Menfi in passato hanno preso parte gli eventi Google anche Mark Zuckerberg padre fondatore di Facebook Bill Gates della Microsoft l'attrice Charlize Theron Rania la regina di Giordania il cantante Giovanotti e tanti altri nomi più che noti chissà quest'anno se qualche VIP si aggirerà in giro per il piccolo centro menfitano ma di sicuro il Baio San Vincenzo sarà off limits sono tre i maestri ceramisti di Sciacca che la prossima settimana voleranno in Francia per prendere parte come ospiti d'onore ad una festa dedicata all'artigianato ceramico che si svolge in Normandia e che ha la sua 27esima edizione vediamo tre ceramisti saccensi Gaspare Cascio Giuseppe Arena e Pippo Prestia saranno protagonisti la prossima settimana della 27esima edizione della Fé des Poutiers festa dei ceramisti che si svolge tutti gli anni a Moulet de la Marsh piccolo centro della Normandia una bella opportunità per gli artisti che hanno già fatto la storia della ceramica saccense loro invitano ogni anno una nazione straniera ma è una grande festa si figuri che poi finisce con fuochi d'artificio invitano una nazione straniera e quest'anno hanno invitato l'Italia naturalmente i normanni perché siamo in Normandia avendo coscienza della grande ipopea che c'è stata attorno all'anno 1000 prima dell'anno 1000 e continuata poi dopo con Federico II che era invece Svevo hanno pensato di invitare la Sicilia per cui noi siamo i rappresentanti della ceramica siciliana evidentemente una selezione che loro hanno fatto indipendentemente all'insaputa di noi ci siamo trovati invitati naturalmente ci sono stati degli agganci hanno chiesto delle informazioni per cui siamo noi i tre che abbiamo questo compito ho dovuto prepararmi alcuni pezzi particolari perché là ci andiamo a confrontare con altre realtà che non sono da secondo piano andiamo in Francia ci sono 60 ceramisti quindi più o meno io ho portato dei pezzi diciamo invendibili ma che io ho venduto qua pure sono dei pezzi sono dei piatti grandi istoriati ce ne sono alcuni mitologici però non copiati ma rivisitate secondo poi il mio io noi siamo stati per i nostri lavori sono rimasti contenti di quello che hanno visto nelle fotografie e quindi noi andremo lì a fare quello che sappiamo fare noi poi lo chiederò anche al professore Caccio lei cosa porterà a questa mostra e allora porterò delle cose molto particolari perché io sono sempre stato affascinato dalle pitture rupestre quindi ma non indipendentemente da questa mostra quindi ho sempre fatto questi lavori utilizzando materiali molto rustici cioè materiali di base evidentemente sono piaciute io porterò evidentemente le cose che mi qualificano due o tre pezzi anche come animali mitici non so il Pegaso il liocorno o poi anche qualche vaso istoriato appunto con delle scene di vita campestre contadina non potevamo non commentare con i maestri Cascio Arena e Prestia la situazione attuale della ceramica saccense noi siamo stati tra i soci fondatori dell'associazione per cui nel passato noi abbiamo fatto da traino poi ci siamo stufati perché sciacca amare sciacca è come amare una donna e non essere mai ricambiati io per esempio come anche Prestia abbiamo talmente creduto nel mestiere che abbiamo rinunciato all'insegnamento e ci abbiamo vissuto bene dopodiché ora c'è una generazione nuova che non voglio fare polemica ma è un pochettino scaduta diciamo a livello quasi più commerciale più commerciale ma diciamo che vendono si vende tantissimo le calamite è veramente scadente perché quando si svilisce il lavoro questo non fa che lasciare un falso storico perché la ceramica di sciacca che sarà letta su quelle pareti su quelle scale che stanno facendo non è la realtà della ceramica di sciacca di oggi ma rappresenta quelle cose molto più commerciali continuiamo a parlare di cultura è stata inaugurata ieri sera la mostra fotografica testimonianze dedicata al castello incantato e all'artista Filippo Bentivegna la collettiva fotografica proposta dall'altra sciacca sarà visitabile fino a domenica in Vicolo Gallo dove Bentivegna è nato e ha trascorso gli anni della sua giovinezza Calogero Parla Piano è stata inaugurata ieri sera la mostra denominata testimonianze si tratta di una collettiva fotografica che viene proposta in Vicolo Gallo sopra la chiazza nei pressi della casa natale di Filippo Bentivegna la mostra voluta dall'associazione l'altra sciacca e dalla cooperativa è dedicata proprio all'artista Saccense nel cinquantesimo anniversario dalla sua morte e al suo castello incantato le fotografie che possiamo ammirare nelle immagini girate dal nostro operatore colgono vari aspetti dell'arte del Bentivegna ritraggono le famose teste e ricollocano l'artista nei luoghi dove è nato e della sua giovinezza ieri sera inoltre durante l'inaugurazione l'attore teatrale Nicola Puleo ha arricchito la manifestazione con un reading letterario sul testo di Suttomperi scritto da Veronica Galletta la collettiva fotografica sarà visitabile anche oggi e domani dalle ore 19 alle 23 l'iniziativa portata avanti dai soci del club fotografico dell'altra sciacca ha l'obiettivo di omaggiare uno dei principali artisti della cosiddetta Art Brut e quello di rivalutare e riportare alla vista dei visitatori uno degli angoli nascosti di sciacca quel vicolo gallo da dove Bentivegna a suo tempo è partito per raggiungere l'America prima di tornare a sciacca e dar vita a quel castello popolato di teste che tutti conosciamo come incantato sarà invece inaugurata domani sera al circolo di cultura di sciacca la mostra i volti di una vita di Leonardo Fisco personale dedicata a Filippo Bentivegna e proposta in collaborazione con la cooperativa Agorà da Fisco un omaggio a Bentivegna nel cinquantesimo anniversario della sua morte vediamo i volti di una vita questo il titolo della mostra dell'artista saccense Leonardo Fisco che vuole essere un omaggio a Filippo Bentivegna si tratta di una esposizione a cura di Anthony Francesco Bentivegna che proporrà pitture e ceramiche di Fisco dall'elevato impatto cromatico la mostra è stata patrocinata dalla società cooperativa Corà di Giuseppe Colino e ospitata al circolo di cultura in questa istanza Leonardo Fisco vuole omaggiare in occasione del cinquantesimo dalla morte dell'esponente dell'arte brut Filippo Bentivegna la sua arte quindi troveremo sicuramente nella mostra quelli che sono i lineamenti della scultura di Filippo Bentivegna rivestiti dalle vestigie cromatiche e segniche di cui la produzione di Leonardo Fisco è intrisa la mostra verrà inaugurata domani alle 19.30 e sarà fruibile al pubblico fino al 20 agosto è una mostra di pitture e ceramiche sì Leonardo Fisco insieme a me abbiamo fatto una selezione di opere diciamo che la scelta era abbastanza ampia soltanto che ci siamo dovuti un pochino adattare alle dimensioni della stanza e quindi principalmente l'intervento per quanto riguarda l'allestimento è soprattutto un colpo d'occhio soprattutto dal punto di vista cromatico è una mostra che sicuramente vi augurate avrà un buon successo di visitatori fino adesso mi dicono che è stata pubblicizzata bene speriamo che avrà veramente un ottimo riscontro un ottimo feedback perché è questo alla fine che vogliamo questo è il nostro obiettivo mettere in luce una figura che già da un po' di tempo è rivalutata quella di Filippo Bentivegni e naturalmente rappresenta un momento culturale molto importante sentito in teoria da tutta la cittadinanza ricordiamo a tutti l'appuntamento l'appuntamento è domenica alle 19.30 al circolo di cultura e la mostra sarà fruibile poi fino al 20 agosto la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 13 del mattino e dalle 17 alle 21 di sera e adesso la rubrica il libro del giorno nello Zimbabue in cui Memori è nata c'è qualcosa di peggio che essere neri e poveri è essere albini né bianchi né neri anche Memori è albina ed è tenuta alla larga persino da sua madre ma a nove anni viene affidata a un ricco e colto professore bianco e la sua vita cambia anche se è cresciuta al riparo della miseria delle top ship anche se ha studiato all'estero per tutti Memori rimane un murugunduru una maledizione e quando anni dopo il suo benefattore viene ucciso per i giudici non ci sono dubbi la colpevole non può essere che lei rinchiusa nel braccio della morte la giovane ha una sola possibilità di salvarsi affidare la verità a un diario e sperare che qualcuno sia disposto a crederle un romanzo che colpisce duro incrociando drammaticamente il destino di una nazione e le miserie di un popolo la confessione di Memori di Petina Gappa edito Guanda e con il libro consigliato della libreria Mondadori di Sciacca si conclude qui quest'edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana e vi auguro